La donna matura non domina, tocca. Essa non provoca, è provocatoria. Non è intelligente, è saggia. Non insinua, mostra sottilmente il cammino. Non ha fretta, attende il momento giusto. Non fa, fruisce. Non vola, fluttua. Non si preoccupa della quantità, preferisce la qualità. Non vede, osserva. Non cammina, passeggia. Non è pretenziosa, semplicemente ama gustare. Non giudica, analizza. Non consola, riscalda il cuore. Non cerca, risveglia i sensi. Non incatena, libera. Non ammalia, incanta. Non è esigente, è selettiva. Non splende, è illuminata. Non le piace essere guardata, preferisce essere ascoltata. Non indovina, percepisce. Non parla di sesso. Lei è una maestra nell'arte dell'amore. Non è facile, è flessibile, non comanda, gestisce, non rinasce. È una fioritura costante. Ed infine, la donna matura è un insieme di tutte le bellezze possibili, perché è una donna. Renancer umano.